Sì, siamo partiti molto molto contratti, un po' deconcentrati, abbiamo regalato due palle a quelli paliche totalmente nulla sfruttate. Poi dopo siamo ripresi con il gioco, loro sono calati molto, anche perché avevano giocato mercoledì, quindi niente, siamo contenti per il risultato, era l'importante. Proviamo che loro sarebbero calati molto, già da fine del primo tempo abbiamo visto che si erano allungati molto e noi con la calma e con anche un po' di frenesia abbiamo attaccato molto e siamo riusciti fortunatamente a portare il risultato. Probabilmente sotto certi aspetti nel girone di ritorno per voi è iniziato un altro campionato, questa squadra quanto può crescere? Sicuramente domenica dopo domenica stiamo crescendo molto, ci stiamo affiatando, nonostante tutti i problemi che ci sono intorno, visto le contestazioni. Però noi andiamo un campo sempre per dare il massimo e portare a casa la vittoria, poi dopo il resto viene. Sì, ora tra due domeniche c'è anche lo scontro diretto in casa, quindi è importante domenica, sabato prossimo a Foligno, non sbagliare la partita e portare sempre a casa tre punti per allungare sulle inseguitrici e anche per accorciare la classifica su Gavorrane e puntare a posizionarsi meglio nel playoff.